La mia vita è un po' lunga, ma se mi lascio la dico tutta. Munarie ha vissuto il paradiso. Si è disegnato un mondo che pareva il paradiso terrestre. E lì ha vissuto 90 anni. La sua distanza dagli altri era enorme. Com'è enorme la distanza tra un bambino e i grandi. Quando i grandi se ne sono accorti, da tutto il mondo l'hanno chiamato maestro. E così è stato. Ero rimasto vedova con questi cinque figli piccoli. E mi davo da fare. Bruno Munarie, questo Bruno lo tiro via. Munarie ha visto che ero in crisi. E allora mi ha proposto, e questa è un'idea sua, di fare un laboratorio insieme, un laboratorio di cinema a Monte Olimpino. Il laboratorio a Monte Olimpino, in qualche modo, era un sogno, no? che avevamo già e che si è realizzato proprio per la sua volontà, per la sua invenzione. Quindi Munarie, che è famoso per altre cose, ha fatto cinema dal 62 al 72 insieme a me e cinque bambini crescenti. come una nuova scoperta dell'espressione del mondo. Lui non lo conosceva, non sapeva fare cinema. E quindi è nata ed è cresciuta in quella situazione, condizione amichevole e di collaborazione. È durato dieci anni ed è quello di cui si sta parlando oggi. Beh, non sapevamo, io sì, qualcosa avevo fatto in cinema e anche in televisione, ma lui no. Quindi abbiamo scoperto, abbiamo cercato e poi scoperto un cinema diverso, altro, nuovo cinema di ricerca. Ma noi inventavamo, eh, giorno per giorno il lavoro, il come farlo, il come darlo in giro e distribuirlo. Mi sembra per quello che io nel libro, la collina del cinema dico, ci siamo inventati i cinque. Il Mierla no, così, in qualche modo tirato fuori dal niente. Ma noi, il comunario e i bambini, ci siamo reinventati. Come farlo? Ma tutto e non solo la manovella col film. Tutto. Chi lo paga? Come fai? E dove lo dai? Proietti. Cioè tutto il ciclo di lavoro. Questo era il cinema. Questo è il cinema. Nel cinema di ricerca, così l'abbiamo chiamato, i ruoli vanno farsi benedire, cioè svaniscono. Ciascuno fa quello che sa fare, che in quel momento può fare. E quello in quel momento è il suo ruolo, poi cambia. E quando si lavorava? Non sembrava che lavorassi. Per esempio, il film che vediamo il salto mortale, Tempo nel tempo, per Omega. Siamo andati a Ginevra. Quando sono tornati da Ginevra, dall'Omega in treno, C'erano un po' di ore. E ho cominciato a pensare al film da fare per Omega, cioè cercare di vedere con gli occhi se dentro il tempo c'è del tempo o no. Se no, gli orologiai raccontavano balle, no? Dicendo sempre più vicino. Come sempre più vicino. Se ne sono più forte che così. Il treno? No. Ma oggi siamo messi a piecchierare. A Milano avevamo già tutto fatto. L'idea del soggetto, la sceneggiatura. Quando siamo tornati a Milano, questo film, Tempo nel tempo, tutto sommato, l'abbiamo girato, cioè il set è durato. L'abbiamo girato in un secondo. Minuto seconda, non ora seconda. Abbiamo fatto dei film di ricerca pubblicitaria, cioè di informazione, informazione mirata a un certo prodotto, un certo movimento, ma non tanto. E quelli che sono usciti erano ottimi anche come film, in sé brevi, eccetera. Cioè rientravano nel canale del cinema di ricerca senza problemi. Cioè praticamente possiamo dire che abbiamo inventato un blocco cinematografico. Comprendeva anche tutto il genere. Perché l'invenzione veramente era questa, cinematografica, che col mezzo, con lo strumento, noi andavamo a cercare immagini nella cosa interessante, no? Più immagini, meglio era. Dopo, sulle immagini che venivano fuori, magari a passo ridotto, 16 mm, cercavamo quelle significative e quelle diventavano i film. Ora è questo modo di fare. Andava bene per tutto. Andava bene per le immagini di una scatola di pomodori. Andava bene per le immagini di un vecchietto malandato. Sì, in principio, siccome Munari era già famoso per tante cose che aveva fatto, in principio, non avendo e non sapendo altro, abbiamo usato le cose già fatte da Munari facendone cinema, no? Per esempio i suoi già famosi vetrini, così si chiamavano, cioè proiezioni fisse di vetrini con immagini soltanto di colori. Noi abbiamo fatto dei piccoli film. Anziché immagini fisse di colori, nel film si vedevano immagini colorate che mutavano. Quindi semplicemente si usava il giacolato di Munari, si faceva un filmetto e si andava avanti. Ora lì in principio abbiamo sfruttato in qualche modo le cose precedenti e la sua fama di maestro. Munari girava il mondo per conto suo, no? Anzi, soprattutto, lo chiamavano in Giappone, lo chiamavano negli Stati Uniti, anche in Europa, eccetera. Quindi quando andava ormai lui si sentiva già un uomo di cinema, no? E portava con sé le piccole pizze e proiettava. Bravo! Questi piccoli film stranamente entravano in una zona cinematografica ultramoderna. Chissà perché. Il cinema ultramoderna allora era soprattutto il cinema underground americano, il cinema sperimentale sieno e via così. Quindi misure, forme, immagini completamente diverse dai cinema e dai film tradizionali. Quindi andava benissimo. Diciamo che nel 1964 un nostro piccolo film era tale qua, un piccolissimo film, il primo ottenuto come film di immagini virtuali mediante il calcolatore elettronico. Quindi la prima immagine virtuale si è combinata con uno dei nostri piccoli film, questo nel mondo, so dove, bel telefono americano. Poi arrivava insieme non solo il film, arrivava anche il signore, magari piccolino, dall'Ungheria, che aveva fatto questa ricerca per la bel telefono e stava a Montalimpino a guardare. E si chiamava Bela Giules. I fratelli Castiglione, amici di Milano, amici di Milano, gente della città, avevano loro un laboratorio di architettura di ambiente. Ok, abbiamo detto mettiamoli insieme, mandiamoli in America. Dico ok perché siamo in America. Secondo me quello è stato il più indicativo film fatto da Montalimpino per quanto riguarda il gioco dei ruoli, la collaborazione, eccetera. Vedetevelo, perché lì nessuno è padrone. Tutti fanno tutto e tutti comandano, anche i fratelli Castiglione. Era sopravvenuto intanto il 1968, con i sessantattini. I ragazzi giovani si erano movimentati e le ragazze. Qualcuno dei miei figli si era persino sposato. Quindi c'erano anche piccolissimi. Gli amici erano venuti a lavorare con noi, gli amici dei figli. avevano preso anche in qualche modo confidenze col mezzo e quindi facevano ingrappate loro quel che c'era da fare. Boh, il fatto sta che a un certo punto abbiamo smesso noi, io e Munar. Luolo. Quindi tarpa d IoT1? Kinda è bellissimo. Grazie a tutti. 鎖 pianissimo. Puoi raggiung? No, dai?